Servizio Matteo Piano, 14-22 più 8 per Milano, mette in difficoltà la ricezione di Piacenza che poi difende bene, poi il primo tempo di Candellaro, ci arriva Patri, poi attacca staccatissimo Urnaut, stava per combinare qualcosa di mai visto, grande difesa di Patri, Urnaut, attenzione Ishikawa, mamma mia che punto, incredibile, esplode di gioia la panchina di Milano per un punto incredibile, ha difeso tutto Milano, qua vediamo Jean Patri con la collaborazione di Urnaut, parte finale, poi staccato Grazie a tutti